Buonasera a tutti, in questo video parlerò di spiagge accessibili. Quali devono essere i presupposti principali per definire una spiaggia veramente accessibile? Il primo presupposto è sicuramente che si accomoda alla persona disabile che la utilizza e alle persone assistenti che vanno con le persone disabili in spiaggia. Ovviamente quindi non si può definire accessibile solo se metti una rampa e una sedia job e dici questa è una spiaggia accessibile. Non è proprio così, bisogna vedere i diversi presupposti e le diverse casistiche. Ovviamente il tipo di spiaggia deve essere anche comoda, preferibilmente magari un stabilimento balneare che abbia tutti i servizi, bagno, ombrelloni. Ovviamente non puoi fare un accesso al mare su una scogliera, ad esempio. Devi avere un minimo di comodità. Il tipo di accessibilità dipende anche dalle caratteristiche della spiaggia. Bisogna vedere se abbiamo il fondale subito alto, la pendenza del bagno asciuga, se è una spiaggia di sabbia o di ciottoli. In base alla caratteristica di ogni spiaggia si può utilizzare un diverso tipo di accessibilità. Nelle spiagge che sono andato in Grecia e a Cipro, ad esempio, il fondale era subito abbastanza alto e lì era ideale utilizzare questo sistema C-Track, che avevo già parlato in un mio video precedente, che consiste in una sedia su una rottaia che entra ed esce dal mare, che è azionata comunque con un telecomando. Ovviamente il fondamento principale per utilizzare questo tipo di accessibilità è che la sedia entri completamente dentro al mare, perché altrimenti poi è difficile salire e scendere da questa sedia. E quindi bisogna, nei casi in cui, ad esempio, c'è il fondale basso, magari si può valutare di utilizzare piuttosto una sedia job o una sedia mare a tre ruote. Però in questi casi ci vuole un minimo di assistenza, quindi una persona che spinga la sedia, e poi quando sei in acqua, secondo me c'è bisogno almeno di due persone, uno che tenga la sedia e uno che aiuti le persone disabili a salire e scendere dalla sedia. In alcuni casi poi alcune persone disabili rimangono sedute sulla sedia, quindi bisogna fare in base a diverse situazioni e valutare, insomma. Un altro sistema che può essere utilizzato è se abbiamo, ad esempio, una piazzola, in quel caso si può magari valutare di usare un sollevatore elettrico, no? Quindi comodamente scendendosi sulla sedia, quel sollevatore può, la persona disabile può, con l'aiuto, insomma, di una persona che aziona questo sollevatore, entrare e uscire agevolmente dal mare, no? Un fondamento però principale per definire una spiaggia accessibile è secondo me un minimo di assistenza nella spiaggia, perché ovviamente non si può pretendere che magari un assistente, una persona che va in spiaggia con una persona disabile, non è tanto forte da riuscire a portare con una sedia job una persona disabile in acqua e portarla fuori, perché non riesce. Quindi in spiaggia ci deve essere, secondo me, un minimo di assistenza da parte degli addetti preposti per poter aiutare in queste situazioni qua. Secondo me quest'ultimo è un presupposto principale, quindi prima di definire una spiaggia come accessibile bisogna vedere tutte queste situazioni e bisogna anche aprire, diciamo, un nuovo paradigma, no? Perché diciamo che questa cosa delle spiagge accessibili è una cosa che sta uscendo appena adesso, no? Adesso si comincia ad aumentare il numero delle spiagge, no? Però con l'aumento delle spiagge bisogna capire anche quali devono essere i presupposti principali.